Buongiorno, oggi parleremo della psicologia cognitiva e della gestalt e di quanto sia importante l'istinto e quindi l'intuito. Bene, la prima metà del ventesimo secolo fu dominata da due filoni di pensiero in psicologia. Il comportamentismo, che era incentrato sulla teoria dell'apprendimento, e la psicanalisi, che punta l'attenzione sull'inconscio e sullo sviluppo dell'infanzia. Ci fu comunque qualche inevitabile eccezione. In Germania, Kohler, un precursore della psicologia cognitiva, studiava la risoluzione dei problemi e il processo decisionale rifacendosi alla psicologia della gestalt, che significa forma, una scuola di pensiero tedesca incentrata sulla percezione e sulla organizzazione percettiva. Qual è la rivoluzione cognitiva? L'elemento che alla fine spostò l'interesse dei ricercatori dal comportamento ai processi mentali era qualcosa di estraneo alla psicologia. I progressi nelle comunicazioni e nell'informatica, le possibilità dischiuse dall'intelligenza artificiale portarono ad una nuova concezione del cervello, come appunto elaboratore delle informazioni. I processi mentali, chiamati processi cognitivi oppure cognizione, che il comportamentismo non voleva o non poteva esaminare, ora avevano un modello su cui gli psicologi avrebbero potuto lavorare. Miller, Brunner, nel 1960 fondarono un centro cognitivo che si trovava ad Harvard e presero quindi una nuova direzione. Gli studi di Miller e di Brunner comportarono un cambiamento appunto di direzione in psicologia perché gli argomenti trascurati dai comportamentisti, come la memoria, la percezione e le emozioni, adesso divennero il centro dell'attenzione nella nuova psicologia. E anche la psicologia della Gestalt venne rivalutata. Non furono però soltanto le idee dei comportamentisti ad essere ribaltate. La teoria psicoanalitica di Freud e dei suoi allievi fu anch'essa criticata in quanto non del tutto scientifica. Per esempio Beck si rese conto che la psicologia cognitiva poteva offrire una terapia più efficace, oltre a presentarsi meglio all'osservazione scientifica. La terapia cognitiva proposta da Beck, che in seguito avrebbe incluso elementi della teoria comportamentale e delle tecniche di meditazione, divenne in breve tempo la cura standard dei disturbi quali la depressione e l'ansia. Inoltre generò il movimento della psicologia positiva, volta non solo a curare malattie mentali, ma a promuovere il benessere mentale. All'inizio del XXI secolo la psicologia cognitiva è l'approccio dominante, con una serie di ripercussioni sulle neuroscienze, sulla pedagogia e sull'economia, e ha influenzato persino il dibattito natura-cultura-educazione. Bene, sul finire del XIX secolo un gruppo di psicologi tedeschi, in disaccordo con le scuole di pensiero predominanti, svilupparono un nuovo approccio scientifico, chiaramente olistico, che chiamarono appunto Gestalt. La psicologia gestaltica, da non confondere con la terapia gestaltica che sarebbe venuta molto più tardi, partì dall'idea che concetti quali la percezione, l'apprendimento e la cognizione andavano considerati come un tutt'uno, come qualcosa da vedere insieme. Quindi non potevano essere studiati e analizzati separatamente. Kohler pensava che la corrente psicologica predominante a quel tempo, cioè il comportamentismo, fosse troppo semplicistica e trascurasse la natura dinamica della percezione. Del resto Pavlov aveva sostenuto già che gli animali imparano per tentativi mediante il semplice condizionamento stimolo-risposta, mentre Kohler riteneva che fossero capaci di intuizioni e quindi di intelligenza. Kohler poté condurre esperimenti in questa direzione quando fu direttore di un centro di ricerca sulle scimmie antropoidi a Tenerife, dove studiò gli scimpanze che erano alle prese con risoluzione di alcuni problemi. Le sue osservazioni confermarono la sua convinzione e dimostrarono che la risoluzione dei problemi e l'apprendimento potevano essere spiegati in termini gestaltici. In pratica, quando si trovavano ad affrontare un problema, come per esempio raggiungere del cibo in un posto inaccessibile, gli scimpanze erano frustrati nei loro tentativi iniziali, ma poi si fermavano a valutare la situazione prima di riprovare. Questo spesso comportava l'uso di utensili, come bastoni o come cassette. Quando poi si ritrovavano ad affrontare lo stesso problema, applicavano subito la stessa soluzione. Di fronte a questa evidenza, Kohler concluse che il comportamento degli scimpanze dimostrava un processo cognitivo per tentativi. Quindi prima risolvevano il problema mentalmente e soltanto dopo l'insight, cioè dopo l'intuizione, provavano una soluzione concreta. Questo contraddice l'idea dei comportamentisti che l'apprendimento sia condizionato dalla risposta ad uno stimolo e poi rafforzato da una ricompensa. Gli scimpanze apprendevano percependo il problema e non ricevendo nessun premio. Questo era una dimostrazione del modello dinamico di comportamento ipotizzato da Kohler, che comportava una organizzazione all'interno della percezione, anziché un apprendimento passivo per risposte a ricompense. Il modello Gestalt di apprendimento per insight, quindi fallimento, pausa, percezione, intuizione e tentativo, questo modello è un modello attivo. Ciò che chiamiamo istinto, la risposta apparentemente automatica di un problema, in realtà è influenzato da questo processo di apprendimento per insight ed è esso stesso un sistema attivo, cioè dinamico. Quindi se volessimo sintetizzare in due parole, diremmo che se uno scimpanze cerca di risolvere un problema per tentativi ma fallisce, si ferma a considerare il problema, tenendo conto di tutte le circostanze, fino a che trova la soluzione grazie ad una intuizione improvvisa, cioè un insight, e in futuro applica questa soluzione a problemi simili. Questo sistema di apprendimento mediante insight è un sistema attivo, non è passivo, quindi la conclusione è che l'istinto è un sistema dinamico, dunque possiamo fidarci del nostro istinto e del nostro intuito. Bene, io mi fermo e vi informo che faccio consulenze psicologiche online, sia con la videochiamata, sia consulenze telefoniche, per cui se volete richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473, scrivendo un messaggio del tipo come funziona la consulenza, specificando il vostro nome e cognome e i vostri orari preferiti. Inoltre potete visitare il mio canale youtube dove troverete oltre 400 video dedicati al mondo della psicologia. Sono presente su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia. Inoltre vi informo che ho scritto quattro libri che troverete soltanto su amazon sia in versione cartacea che ebook in bocca al lupo.